Ok, possiamo fare entrare in campo Mancuso-Antonio, ultimo binomio prima del passaggio del fattore, si spinge la acqua, fare il star. Giovanissimo Mancuso arriva in campo a questo aspetto di protezione, un ormaio di retorio per i ragazzi minorenni, ed entra veloce, per fare il star, primo barriere di Deo, l'ingita e l'ingita verso la gelata, allunga verso il secondo barriere, e c'è bene nel secondo, e via l'ultima girata, forza e l'ingita, a un allungo per il gelare, il tempo è il 16, 943, bravo!